Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su The Heartful Escape questo videogioco che fonde musica, platform e psichedelia varia con un botto di fantascienza e che sto registrando in 4k e 60fps da pc vi invito a lasciare un bel mi piace al video se lo state gradendo di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti detto ciò entriamo in questa nave volante ah ok si apre così il muro la visuale e andiamo a parlare a lei ti presento Glacial l'eccezionale piacere non parlarci oh scusami è uno strazio non va affrontato se si è impreparati adesso Glimmerdim dobbiamo andare a Glimmerdim noi non puoi entrarci con quei vestiti tesoro cosa che non va gli abitanti sono votati allo stile alla moda alla forma o quantomeno pensano di esserlo la chitarra che ho sentito a beige eri tu vero? si me la cavo si suonavo con un gabberetto abbagliante non hai ancora sentito niente hai la musica dentro di te e i musicisti si vedono come aberrazioni dagli oceani una vita di rabbiosa solitudine definita soltanto dalla lucentezza delle proprie zanne ma vale anche l'opposto i grandi artisti si circondano di un branco etereogeneo credo di capire presta molta attenzione a tutto ciò che circonda il tuo universo creativo spettevolezze immagine moda luce mettici la cura che useresti per incastonare una pietra preziosa nel platino c'è un armadio nelle mie loggie a crua va a vedere cosa riesci a trovare ok andiamo a vedere qua possiamo vedere dall'oblò si è una vista dall'oblò ahah niente qui dietro non si può salire no a quanto pare da qui no almeno vediamo se si può salire da qualche altra parte ahah da qui immagino proprio da qui wow ehi ma che che ne è stato nei miei vestiti ah possiamo vestirci come vogliamo ora andiamo con dai calzini forse no piedi nudi feticisti is possible come si va dalle altre parti ah posso anche cambiare il colore oh mettiamoci blu ma non posso passare nelle altre nelle altre categorie ah qui però posso scegliere solo i calzini magari mentre qui i capelli allora no scodella direi di no non voglio diventare testa di cocco perché guardava a ned scuola di sopravvivenza allora il colore nero non mi va più che bene ecco perché anche io ho i capelli neri ecco fatto magari però il secondario cambiamolo un attimo per dare quella sfumatura in più mettiamoli sfumatura sfumatura così dai un bluetto e come capigliatura super saiyan dai super saiyan ci sta vediamo gli altri giusto per curiosità ok dai mettiamoci super saiyan direi che ci può stare poi occhiali visore 7 ehm 7 dai aha ed ora pantaloni o meglio mutano no si pantaloni ehm vediamo eh io mi metterei questi qui luccicanti dai e mettiamoli gialli però vai vai shirt vediamo eh ma direi una bella camicia così vai a fiori e mettiamoci mettiamocela rossa rossa face facts quindi tatuaggio in faccia ma anche no e andiamo in su qui c'è qualcos'altro possiamo prendere si le scarpe dobbiamo metterci delle scarpe da basket vai io giocavo a basket ragazzino eh tac poi mettiamoci le rosse e terziario nure ecco fatto full di metal jacket citazione ehm spalle piumate vediamo eh beh io direi che questa può andare giacca luminosa e la coloriamo di un bel rosso scuro c'è un rosso un po' più scuro questo è più un marrone però dai teniamocela così ok ma non posso cambiare la mia chitarra qua ah infatti prosevo eccoci qui facciamoci un bel drago che si intona con i capelli come forma però un drago sputa fuoco no quindi mettiamolo rosso poi arancio ed infine giallo ecco qua ecco qua vai ed ora andiamo a suonare l'eccezionale gracia è proprio lui ah ah devo avere un suit però così mi cambi tutto l'outfit vediamo che me lo metta sotto no non lo voglio glove i guanti ma sapete che anche i guanti non mi interessano più tanto ah sono caduto di nuovo giù grazie a questo punto dovrei essere pronto per la mia esibizione devo salire di nuovo però vai vai hop 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 dai non sono pronto per l'esibizione devo fare qualcos'altro scusami eh ho preso tutto non penso che io possa salire ancora di più infatti così si va giù la mi faceva tornare indietro quindi non è che magari devo tornare indietro perché una volta completato tutto mi ha fatto cadere giù ed è una cosa strana quindi magari devo uscire di qui infatti pronto da andare si sto a una favola vai bisognava andare proprio lì andiamo avanti impressionante una dichiarazione di intenti cosa ne pensi calvagio? un trionfo dello spirito umano ok ti chiedo scusa allora dove hai preso questi vestiti? al centro commerciale nel tuo guardaroba errato dove tra tutte le strabilianti città e canali e buchi neri dell'universo hai preso questi vestiti? oh li ho rubati, li ho vinti, mi sono stati regalati li ho rubati da una 24 ore destinata all'imperatrice della galassia da una struttura militare dedicata allo studio dei raggi laser nella bolla temporale di Rav Rave da una cassaforte nascosta nei concitati sogni comunitari di una colonia di primatis ovviamente costume meraviglioso arredito calvagio fantasmagorico ora ti lascio non per spaventarti ma c'è un orologramma che gira un sera per la nave dice di essere un tuo amico e non vorrei essere scortese ma sta tirando i cromosquito e andiamo a vedere un po' penso sia violetta eh sei qui fuori violetta le cromosquitos che si nutrono nel deserto ok ok va bene quindi è dall'altra parte violetta io non voglio andare però qui vorrei andare su vorrei andare fuori ah posso fare così eh mi sembrava strano quindi devo andare ancora più su e infatti è di fuori andiamo andiamo ho capito ormai come come devo fare hop e invece era Lightman sei tu Francis? mi chiamo Glacial infatti non dovresti andare sul palco? non c'è un modo facile per dirlo mi hanno silurato nooo come? che è successo? oh sono successo un sacco di cose questa è solo l'ultima di una lunga serie di cose che sono successe mi dispiace mi dispiace tanto non è colpa tua figliolo beh per la verità lo è sei stato promosso capitano del cosmo polmone io che? no no è assurdo il grande capo delle trasmissioni ha parlato il tuo spettacolo ha più pubblico del mio perciò sei tu il capitano devi dire di no devi dire loro che non sono pronto non si discute con gli ascolti ragazzo mezza galassia ha gli occhi puntati su di te mezza galassia sussurrando tanti di quegli occhi sono il capitano so many eyeballs non mi ero mai spinto così da dentro Glimmerdim magnifico non trovi? immagino che tutto sembri magnifico quando sta per finire no vai su ecco fatto problemi? difficile stabilirlo ci stiamo avvicinando alla città siamo pronti? preso tutto il necessario dal guardaroba? si prontissimi qual'è il tuo piano di entrata cicci? ho un biglietto davvero? oh capisco quindi non serve una audace irruzione con pistole fumanti? ne dubito che delusione lascial ascolta all'inizio occorranno resistenza ti derideranno perché non hanno mai visto niente come te i glimmer dimeriani credono di aver raggiunto l'apice dello stile si sbagliano vuoi avere la loro attenzione? fatti notare beh l'eccezionale che avventura che schiacciante senso di tristezza ok addio amici grazie di tutto e buona fortuna ok anche questa parte è un po' strana con questi due personaggi quindi è finita ed ora tocca la città di Glimmerdim a quanto pare e si va non posso ancora suonare qui però e si va salve non fare un altro passo cosa sei? sono Glacial Eccezionale capo della Sinfonia Galattica a volume infinito l'adolescente più celebre del pianeta della Vondom del... del pianeta Vondra Dome capo della Sinfonia Galattica a volume infinito e questo è il mio biglietto che grazioso biglietto non si discute magnifico guarda quel dorato lo sto guardando è proprio quello giallo dorato quel giallo dorato ad aver attirato il mio occhio esperto a quale forice cromatico credi che appartenga? beh, direi un lentifricio oro 22 coincide con la mia valutazione sorella dentifricio oro 22 oh c'è lo c'è lo c'è lo ne avevamo letto soltanto nei libri non credevo che l'avrei mai visto le linee guide cromatiche ufficiali stabiliscono che tutti i documenti ufficiali ad operino dentifricio oro 23C terribilmente spiacente ti invitiamo ad allontanarti all'istante il tuo aspetto è comico comico come volete di romperò in un frastuono indiavolato darò fuoco all'intero sistema sobillerò una rivolta darò fuoco all'intero sistema ecco via fermate quella cosa no, sono caduto doveva andare qua ciao questo è un fascista che è un esatto 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 Grazie a tutti. 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 K tesoruccio, non lasciarti omologare, sei un fiore nel deserto. Vamos. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora si suona. Ed ora si suona. Grazie a tutti. 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 Sul serio? Grazie a tutti. 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 Arrenditi. Arrenditi. Grazie a tutti. 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 Ottimo, questo è il primo colpo andato. Non lasciatelo scappare! Ed ecco che si suona ancora. Aspetta, torna qui! Non puoi farmi questo. La mia immagine non si risolleverà mai più. E invece... Ahà, si suona ancora! Ok, una fine un po' brusca. Questo taglio. Però abbiamo superato anche questo livello. Caricamento? Si, caricamento. Aspetta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! Eccoci tornati nello stupefacosmo. O meglio, al polmone dello stupefacosmo. E questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacialsphere è tutto. Al prossimo video! Al prossimo video!